da oggi a nocere inferiore è obbligatorio indossare la mascherina quando si esce di casa è entrata in vigore infatti l'ordinanza del sindaco Maglio Torquato prevede che tutte le persone che sono costrette ad uscire per necessità come fare la spesa o andare a lavorare devono indossare la mascherina è bene ricordare che il dispositivo non serve a proteggersi ma evita le persone che magari sono asintomatiche che trasmettono il virus quindi la mascherina è utile a tagliare la catena del contagio e sarà uno strumento indispensabile nella seconda fase dell'emergenza quando ci sarà una parziale apertura delle attività e continua dunque anche l'attività delle associazioni di protezione civile che stanno consegnando le mascherine a domicilio alle famiglie disagiate in strada comunque non tutte le persone la indossano i controlli sono in corso da parte di polizia di stato carabinieri e polizia municipale che stanno verificando se le persone sono in strada per reali motivi di necessità anche a nocera superiore ci sono pattugliamenti posti di blocco e controlli a tappeto da parte della polizia locale nell'ultima settimana sono stati fermati e controllati 400 persone sia a piedi che in auto resta alto il livello di attenzione disposto dall'amministrazione comunale il sindaco giovanni maria cuofano ha confermato la notizia di due casi positivi anche questi a seguito di contatto con un operatore sanitario in servizio presso una residenza sanitaria assistita fortunatamente ha detto il sindaco entrambi erano già stati isolati con ordinanza sindacale prima che avessimo notizie del tampone grazie alla ricostruzione dei contatti è fondamentale continuare a resistere ora più che mai non possiamo e non dobbiamo abbassare la guardia ha concluso cuofano controlli intensificati anche a rocca piemonte in occasione dei giorni di pasqua da parte degli agenti della polizia locale in collaborazione con le guardie ambientali vengono presidiati soprattutto le aree nei pressi di supermercati centri commerciali e negozi di prima necessità affinché vengano rispettate tutte le norme e non ci sia l'arrivo di persone da comuni che non siano quelli di rocca piemonte a meno che la presenza non sia giustificata da uno dei validi motivi inseriti nei decreti e nelle ordinanze in media quotidianamente vengono segnalate circa 15 persone che non rispettano le regole in questi giorni di festività sono state raddoppiate in strada le presenze delle guardie ambientali d'italia quest'ultima associazione ha intanto donato bene di prima necessità alla protezione civile di rocca piemonte affinché vengano distribuiti ai cittadini in difficoltà economica grazie a tutti